Muhammad Ali era una persona davvero simpatica e alcune cose che faceva facevano spaccare dalle risate. Sì, sei un buon bambino? Sì. Allora, posso boxe? Sì. Come boxe, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. I'm fine. Huh? I'm fine. I don't want no trouble. Do you want trouble? No. Good, me neither. I'm fine.